11 sale slot e sale scommesse controllate. Per una di queste è stato disposto il provvedimento di sospensione dell'attività, per un'altra è arrivata una diffida. E' questo il bilancio dell'intensificazione di controlli mirati alla regolarità delle sale da gioco della provincia effettuate dalla squadra mobile della Questura di Pesaro assieme al personale della divisione Pasi e responsabile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Durante le ispezioni, canalizzate fra il 28 novembre e il 7 dicembre, sono state identificate 29 persone, di cui 11 con precedenti di polizia. In alcune delle attività controllate sono state riscontrate irregolarità che hanno determinato da parte degli operatori impegnati nelle verifiche un provvedimento di diffida per un esercizio commerciale in cui venivano elargiti dei premi ai clienti abituali e come tali ritenuti più meritevoli. In un secondo caso è stata proposta la chiusura per 15 giorni di un'attività per mancata presenza all'interno del cosiddetto preposto di sala.